Ciao a tutti e bentornati da Mr. Checkers, adesso facciamo una sfida all'ultimo sangue a un minuto secco. Vediamo un po' l'impostazione. Ho molti punti, cerchiamo di non perderli. Dunque, non posso stare a pensare, non c'è tempo di pensare qua, bisogna muovere e basta. Comunque questa direi che è vinta per tempo. Che succede? Morto? Oh, c'è nessuno? Tocca a lei. Muova, muovi, muova. Niente. Si è ripreso, attenzione, si è ripreso. Bene. Ma che cavolo di apertura ho fatto? Dunque. Questa non la conosco proprio. Questa non la conosco. Ma direi che comunque vinco per tempo. Ah, molto bene. E adesso che faccio? Ma. Mi sono salvato per un pelo. Non avevo visto questo giochino. Ecco come anche questo, ma fortunatamente sono molto veloce e quindi vincerò io. Salvo cappelle varie. Ecco, infatti, ci fu la cappella. Molto bene. Pareggio. Ma non si può togliere il sonoro, vabbè. Sarà un modo per levare il sonoro, no? No? Niente. Vabbè, ce lo teniamo, dai, non dà così fastidio. Allora. Ho anche perso 8 secondi preziosissimi. E mangia, dai. No, quando si impiglia il mouse non lo sopporto. Me la sto un po' inventando, eh. Vabbè, dai. Qua non c'è nulla. C'è solamente una pari. Andiamo a proteggere... Niente. Persa. Non andiamo a proteggere proprio nulla. Ma perché faccio queste cappelle? Beh, forse era inevitabile. Dai, concentrazione. Ma questo è forte. Io lo sto un po' sottovalutando, forse. Niente, persa. Proviamo ancora. Gli regaliamo tutti i punti. Divento verde. Come lui. Lui diventa giallo, io divento verde. Vabbè, questa dovrebbe essere facile. Questa è una partita facile. Dai, dai. Questa, questa niente. Non posso attaccare. Vabbè, calma, eh. Molta calma. Adesso posso attaccare. No, non potevo attaccare. Vabbè. Poco importa. Si va a Dama. Ah, adesso ho sbagliato lui, però. Bene, molto bene. Ogni tanto, eh. E del resto qua, è facile sbagliare, perché non c'è molto tempo per riflettere. Si parla di mezzo secondo a mossa. Qua direi che non ci saranno molti, molte chance per lui. Vediamo un po'. Ok, posso solo dare questo cambio. Da matura anticipata. Proviamo. Proviamo qualcosa. Ma mi sa che non c'è nulla. Sì, non c'è proprio nulla. E' una pari. Però ho più tempo, quindi me la gioco. Aspettiamo a portare in Dama la pedina, perché ricordo che muovendo la pedina ricomincia il conteggio delle 40 mosse. Solo che adesso sono obbligato a muoverla. E credo che in 20 mosse si riesca a fare la pari. Me l'ha data. Vabbè. Me l'ha data lui. Forse riusciva a fare 80 mosse, diciamo 40 turni. Ok, però se me la regala va bene così. Allora. Allora, questa non la posso perdere. Per teoria. Però ogni volta che lo dico, arrivano le cappelle, puntualmente. Quindi, massima concentrazione. E ora posso solamente vincere. Perdere la vedo dura. Eh, ma se me ne lasci due. Niente. Ma, prima si era dopato, ero io rincoglionito perso. Vabbè, non lo so. Adesso mi avventuro in questa linea. Non mi piace mica tanto la posizione. Lui ha creato una corazzata. Ah, che pirla. Vabbè, però gliene devo dare due per fare il tiro. Adesso, eventualmente io lo devo fare, però. Io lo devo fare per forza adesso. Altrimenti perdo io. E ora? Adesso dama. La tengo per le lunghe, eh. Chissà se era meglio non attaccare dall'altra parte. Eh, sì, c'era un altro pezzo in presa. Niente, vabbè. Vabbè, pazienza. Tiro a tre. Oh, stavo quasi per non vederlo. Ultima. L'abbassi i quadrati, ma lui me la varia. E quindi, niente. Non la so neanche tanto bene, così. Vediamo un po'. Ma cos'è? Oddio. Cosa ho fatto? Calma, eh. Non ci capisco più nulla. Ecco, faccio mosse a caso. Premo tasti del mouse a caso. Ce la farà il sicolo barese a recuperare? Speriamo di sì. Comunque il sicolo barese non sono io, eh. Allora. Eh, qua, qua è brutta. Molto brutta. Che facciamo? Non lo so. Boh, questa. ci proviamo lo stesso, dai. Eh, però ho dieci secondi in meno. C'è ancora una speranza. Sì, muovi la pedina. Bravissimo. Così mi piaci. Bravo. Grande. Grandissimo. E si va addirittura a vincere. Posizione persa. Però ho pochi secondi. Devo veramente fare una corsa contro il tempo. Perché gli do il pezzo e faccio la pari. Perché non ho tempo di chiuderlo nel biscacco. Perché con l'uno contro uno si pareggia in cinque turni, mi sembra. Ma che variante gioca? Oddio. In realtà non so se si può rientrare nella bassi quadrati del bianco. Boh, penso di sì. Comunque si rientra da diverse aperture. Qua mi sto anche qua un po' avventurando. Però, se mangio da questo lato, direi che non ci sono rischi. Invece ci sono. Come? Vabbè. Vabbè, vabbè. Vediamo se si può fare qualcosa. Ho perso il pezzo. Sembra di no. Ma... Poteva dare sacrificio. E adesso... Adesso è persa. Non so cosa fare. Boh. Accendiamo un cerino alla Madonna. Donna. C'è un cerino alla Madonna. 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 è una resistenza all'ultimo sangue benissimo così mi piace e adesso adesso mi sa che perdo per mossa ma pensate che se va che ci sono due secondi potevo anche niente ha vinto il rosso beh direi che può bastare così ci vediamo alla prossima sfida ciao